Le responsabilità dal punto di vista legale su questo fatto le accerterà la magistratura, ancora sta acquisendo degli elementi, trovo del tutto fuori luogo che qualcuno, per esempio il sindaco di Firenze, dopo sei ore avesse già trovato di chi era la colpa e veramente quella se la poteva risparmiare, anche perché Publiacqua è anche il comune di Firenze, anche lui stesso. Però detto questo, se non si va a vedere come mai continua a rompersi i tubi e in questo caso se ne parla a livello internazionale perché è lungarno, perché vicino c'è il Ponte Vecchio, però dico altre rotture altrettanto impattanti sul suolo si sono avute negli ultimi anni e continuano ad aversi, perché è chiaro che non c'è manutenzione, questo mi pare un dato di fatto ma lo ha detto anche Publiacqua. Allora andiamo a vedere perché, perché dovrebbero esserci tubi al massimo di 40 anni e invece qui abbiamo tubi molto più vecchi 60-70 e si risale indietro. Come mai? Allora qui bisogna chiamare in causa come funziona Publiacqua e Publiacqua funziona esattamente come anche il comune di Firenze ha deciso che funzionasse, perché è stato il comune di Firenze che ha alla fine dato l'ultimo via libera a trasformare Publiacqua da un'azienda totalmente pubblica a un'azienda mista pubblico privata, facendo entrare dei soci di grande, con le spalle molto larghe, perché sono soci che si sono presi il 40% di Publiacqua e si chiamano Suez, ora al momento, oggi si chiamano Suez, la grande multinazionale delle acque francesi all'origine eccetera, si chiamano Acea, un grande quacervo di soggetti con un bilancio che lì si c'è una voragine, l'abbiamo letto già, si chiamano Monte dei Paschi, quindi questi soggetti grossi si sono presi, il 40% esprimono l'amministratore delegato a cui ora si sta cercando di dare la colpa tra parentesi a parte del comune di Firenze e hanno introdotto questo modello società per azioni, vuol dire che Publiacqua deve fare utili e questi utili vanno ripartiti tra i soci, il 40% degli utili netti vanno nelle casse di Acea e non vanno per esempio in manutenzione